Serviva vincere per dare un segnale positivo alla squadra e a tutto il club del Melfast Gelabasket. Dopo un periodo negativo di risultati, il quintetto gelese torna al successo e lo fa davanti al pubblico amico. Una sfida che ha visto la squadra di Bernardo lottare punto su punto contro il Giarre, finare di gara 57-53. Il primo quarto si chiude in vantaggio per i padroni di casa per due punti. Nel secondo quarto il vantaggio aumenta chiudendo 25-20. A rientro dagli spogliatoi la formazione avversaria reagisce chiudendo il parziale con quattro punti di vantaggio. La reazione del gelese arriva subito all'inizio dell'ultima frazione di gioco recuperando e chiudendo il parziale con un più quattro finale. La squadra di Bernardo conquista due punti fondamentali allontanandosi dalla zona rossa della classifica portandosi a quota 14 punti raggiungendo proprio Giarre e il Cus Catania. Sabato sfida in trasferta sul campo della penultima in classifica del torneo di Serie C Silver, Fortitudo o Messina. Nel campionato di Serie C di pallavolo femminile importante punta in trasferta per il volley Gela sul campo della terza forza del torneo regionale PGS Juvenile a Catania. Finale di gare a 3-2. Questi parziali set 25-11, 21-25, 25-17, 22-25, 15-11. Un punto fondamentale ai fini della classifica che fa allontanare le ragazze di coach Tandurella dalla retrocessione diretta in Serie D. Sabato sfida interna alla palestra Itis alle 19.30 contro Volley Academy Catania.